Hanno avuto inizio lo scorso lunedì gli esami di riparazione delle scuole secondarie di secondo grado della provincia. Nonostante non sia possibile avere un dato preciso sul numero degli studenti rimandati, l'ufficio scolastico disporrà delle cifre soltanto a test conclusi. A livello regionale la Lombardia, con il 26,2% degli alunni sospesi a giudizio, è seconda soltanto alla Sardegna, che raggiunge il 28,6%, contro la media nazionale del 24%. Intanto nella mattinata di oggi, presso il liceo Donnegani di Sondrio, si sono svolte le prove orali di inglese, una delle materie più ostiche, almeno in questo istituto. Lo scoglio, a quanto pare, sarebbe stato superato. Allora, ho avuto l'esame di inglese, che ho appunto fatto l'orale, ieri ho fatto lo scritto, e niente, penso sia andata bene, sono uscita, contenta e finito. Ora inizia l'estate. Sì, è finita, sono passato fortunatamente, niente, adesso si pensa al prossimo anno, l'ultimo, speriamo vada bene. Nell'istituto sondriese, guidato dalla dirigente Giovanna Bruno, è stato rimandato il 18% degli alunni, l'equivalente di un centinaio di ragazzi sui 541 iscritti, alle prese, soprattutto con gli esami di riparazione di lingua. Un frangente, secondo la dirigente, da approfondire. Sempre più sovente, spiega, gli studenti trovano difficoltà non solo nell'approccio con la lingua straniera, ma anche con quella madre. Gli scrutini si faranno entro il 31 con relativa pubblicazione, il clima è molto sereno, molto tranquillo, i ragazzi sembrano soddisfatti delle prove sostenute, vedremo poi gli esiti. Le materie che quest'anno sono risultate più ostiche sono state italiano e inglese, quindi le materie letterarie, mentre c'è stato un calo dei debiti nelle materie scientifiche, di matematica e fisica. Cercheremo di capire se è un trend, quindi bisognerà lavorare di più sulle competenze di base in lingua madre oppure solo un anno un po' particolare e vedremo prossimamente.